Monterisi, voto 7, protagonista assoluto della prestazione del Frosinone, è stato lungamente sul 7 e mezzo perché ha giocato un periodo straordinario, al di là del merito sul gol, tante chiusure difensive, un salvataggio letteralmente prodigioso, una prestazione di grande autorità, poi in realtà sul gol dell'Atalanta è in marcatura su Duván Zapata, non riesce a tenerlo e quindi si applica la dura legge dei bonus e dei malus durante le partite, quindi il voto scende a 7 ma rimane una prestazione molto importante, molto positiva, con la gioia del gol e coincide con la prima vittoria in Serie A del Frosinone, per cui una grande festa per lui e un voto assolutamente meritato.